Mander, è tutto pronto? Certo, maestro. Alla pressione del pulsante, il grande telescopio rintraccerà tutte le pagine del libro degli incantesimi. Bene, avvia il macchinario, forza. Fantastico, il resto sarà tutto mio. Ma che diavolo, no! Cosa abbiamo qua? Pazzo, ficcanaso, hai la minima idea di che cosa hai combinato. Mander, occupati di questo sciagurato. È ora di rompere qualche osso, vero Dogman? Osso, 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 silenzio.